Siglato questa mattina nella Sala Gialla di Palazzo del Carmine il protocollo di intesa della durata di tre anni con possibilità di proroga relative ai rapporti di collaborazione tra il Comune Nisseno e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta. Ad apporre la firma sul documento il primo cittadino Nisseno e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta. Il protocollo punta rafforzamento del sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive, si precisa, degli interessi economici e finanziari pubblici connesse alle misure di sostegno e o di incentivo di competenza del Comune di Caltanissetta, con particolare riferimento alle risorse europee e nazionali correlate al PNRR, cioè Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Guardia di Finanza ci aiuterà a controllare quello che succede perché i flussi finanziari saranno importanti. Noi parliamo già soltanto del piano di rigenerazione nazionale, sono 20 milioni di euro e poi successivamente tutta una serie di finanziamenti che arrivano, per esempio il Polo di Xirbi da solo sono 9 milioni, per cui è chiaro che i flussi finanziari sulle opere pubbliche vanno assolutamente controllati con attenzione. Questo che farà la Guardia di Finanza insieme a noi è anche un preludio a ciò che farà anche la Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti di suo già sta iniziando a controllare i propri flussi finanziari sulle opere pubbliche, per cui per noi è fondamentale che ciò avvenga per la sicurezza di tutti quanti. Non ci sarà solo uno scambio di informazioni, ma si prevede anche un'attività formativa. Lo strumento aggiuntivo rispetto a quella relazione che il corpo già svolge è quello della sinergia. Cioè il fare le cose insieme non si è né l'uno contro l'altro né su versanti contrapposti, ma chiaramente si è tutti dalla stessa parte. E l'aspetto secondo me ulteriore, perché pensiamo sempre al controllo, la Guardia di Finanza rappresenta sempre un po' l'entità che controlla, che verifica. Qui c'è un ulteriore componente che è quello anche della formazione. Formazione significa insieme verificare quali sono le modalità migliori per portare avanti l'azione amministrativa. E questo io credo che sia un valore aggiunto fondamentale di questo protocollo, rispetto al mero scambio di dati o al fatto che il Comune possa, come logico e come deve essere, dare degli alert rispetto a situazioni dove richiede una chiarezza. Quindi questo andare un po' su un progetto così importante per la provincia, per la città e per tutto il paese, come il PNRR, credo che sia il vero valore aggiunto di tutto questo protocollo. Andare insieme, andare sulla stessa linea e evitare che qualcuno possa pensare che ci siano debolezze istituzionali che consentano di trovare spazi che non ci sono assolutamente. Grazie. Grazie. Grazie.